Dalle nomine di figure apicali ai avvisi per il reperimento di professionisti su tutto medici, massima attenzione al comparto sanitario molisano. Continua incessante all'interno della giunta regionale del Molise l'attività per l'individuazione del nuovo direttore generale dell'ASREM. Negli ultimi giorni la partita sembrava chiusa, invece da Palazzo Vitale fumata nera, una condizione che ha portato alla nomina di un commissario straordinario, sarà il dottor Alberto Manfredi Selvaggi, che traghetterà l'azienda sanitaria fino alla conclusione delle procedure ordinarie previste per la scelta del direttore generale, oltre che del direttore amministrativo, quello assegnato a Manfredi Selvaggi già alla guida dell'ARPA, quindi un incarico a tempo. Intanto il comparto sanitario in regione resta una priorità, dalla scelta delle figure apicali, che nel pieno delle proprie funzioni dovranno lavorare sodo per risollevare le sorti del settore, al reperimento di professionisti, medici in primis, per coprire i vuoti nei sei ospedali pubblici delle due province, garantendo i servizi di assistenza di cui ciascun paziente ha diritto.